video molto lungo ma abbiamo voluto testare al massimo il nuovo Mooman H2 Pro 3 minuti all'inizio del video dove vi anticipo tutte le funzioni e i nuovi aggiornamenti che sono stati fatti all'interfono il resto è tutto un po' sul giro in offroad che abbiamo fatto, c'è stato veramente da divertirsi perlomeno noi ci siamo divertiti tantissimo tante ore in moto, tantissima l'acqua dalla mattina fino alla sera e tantissimo fango godetevi il video se vi va di vedervelo tutto quanto, altrimenti spezzettatevelo, insomma gestitevelo voi ragazzi ci sentiamo nei commenti e ci vediamo al prossimo video, ciao la Mooman ci aveva promesso un nuovo modello del suo H2 e ce l'ha fatto, eccolo qua cosa cambia rispetto al vecchio? da fuori non cambia nulla se non una piccola scritta sul posteriore Pro si collega sempre a due caschi ma questa volta hanno migliorato la distanza tra un casco e l'altro condivisione della musica con i due caschi un assistente vocale 12 colori differenti da scegliere quando ne abbiamo un po' io adesso ne ho 3 per esempio no, 4 quindi stavo dicendo questi 12 colori per differenziarli hanno aggiunto l'italiano mi avevano chiesto sotto i commenti ma l'italiano non c'è, non che ci parliamo con lui lui al massimo ci dice quando è acceso e quando è spento e quando si sta collegando e ah, è quando si scarica la batteria però hanno aggiunto l'italiano quindi vuol dire che la Mooman ascolta i nostri feedback quindi nei commenti per chi ha provato sia quello vecchio ma soprattutto quando proverete questo link in descrizione con lo sconto eccetera eccetera, già lo sapete quando lo proverete scrivetemi così io gli chiamo anzi gli scrivo e mandiamo tutti i feedback positivi e negativi risposta automatica della chiamata quindi quando ci chiamano possiamo non toccare nulla anche se è semplicissimo rispondono automatico ovviamente questa funzione si può disabilitare comunicazione più cristallina quindi sentiremo la voce più cristallina a me già andava più che bene come sentiva la voce hanno migliorato anche la riduzione del rumore anche lì, se vi ricordate l'avevo provato oltre ai 100 km orari con la visiera aperta dall'altra parte non si sono accorti che ero attaccato all'interfono collegato con l'interfono in moto a più di 100 km orari ma l'hanno migliorato ancora di più andiamo a vedere rapidamente cosa c'è qua dentro l'ho detto che c'è un QR code che estende la garanzia quindi nonostante il prezzo sia molto basso ci regalano un'estensione della garanzia allora rapidamente perché quello che ci interessa un po' meno dovrebbe esserci più o meno le stesse cose all'interno come vedete lo apro con voi ecco fatto bellissimo allora non lo dico per dire ma a me piace molto non so se si vede l'avevo chiesto color camo e me l'hanno mandato in questa colorazione spero si possa vedere bene non lo so vediamo se si vede faccio così eccolo qua è ugualissimo all'altro questo è il modello H2 questo è il modello H2 Pro sono completamente uguali stessi tasti clic ben secchi quindi li sentiamo bene quando li tocchiamo con i guanti nella scatola come al solito cavo per ricaricarlo qualsiasi cosa per poterlo collegare a qualsiasi tipo di casco ok andiamo a farci una bella uscita in fuoristrada con Antonio io lo monto sul suo casco e lo proviamo vediamo se è vero che hanno aumentato un po' la distanza vado a cambiarmi ciao Antonio ehi Dani la moma non ci ha regalato il pro ah non è un po' d'accordo che c'è un obbligo è il pro questo ti ricordi che è un esteticamente uguale te l'ho preso camo che mi ha detto che il colore lo vuoi ci sta benissimo col casco esatto pensato al casco tuo e miglioramento dell'audio miglioramento della distanza ti ricordi quando andavi dietro le sparire il segnale oggi lo proviamo montatelo montatelo quello accoppiamo subito subito quello già montato è accoppiato quello che l'altro di prima giusto della serie plug and play ma è ricaricato si si lo ricaricato a parte che mio ma l'ho caricato e sta al 90% dalla sky dai vecchio ce l'ha una batteria infinita si allora la scendiamo come l'altro accendi quindi anche oggi ti sa di assicurare grazie alla Mooman e Mooman facci la versione che si collega almeno una decina di caschi almeno se no c'è chi riprende che vorrebbe volare io vengo completamente escluso collegato prova accoppiamo chi senti? aspetta non abbassare il volume e vatti a fare un giro da quella parte no no poi lo proviamo con la moto andiamo a farci un giro in moto e lo proviamo allora Antonio adesso io vado avanti vado dietro la casa io ti aspetto qua e vediamo se esatto tu mi lasci andare poi parti però vediamo fino a qui quanto si sente vabbè allora voglio dire una cosa ok bellissimo mi senti? 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 no no aspetta aspetta veramente voglio andare dietro l'angolo giacché aspetta qua si scivola parecchio 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 ok vai mi senti? mi senti? mi senti? allora il primo angolino l'ho passato però c'è il muro basso anzi se io mi siedo vediamo se mi nascondo un po' dietro il muro mi senti? mi senti? adesso mi senti? sono dietro il muretto dietro l'angolo mi senti? 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 vabbè parti dai ok allora diciamo che a 300 metri dietro la masseria che comunque stiamo parlando di tufo e cemento quindi direi che l'ostacolo abbastanza il segnale vanno bene vanno meglio degli altri stiamo parlando di un muro davanti quindi c'è di una masseria mica mica da ridere sto registrando metti lo slancio fino alla ruota davanti qua un po' più di slancio fino a la così la ti blocchi ok 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 adesso di nuovo leggero leggero riparti ma questi passi meglio di prima o di seconda? di prima basta che sei dolce dolce vai dolce vai da la dolce vai vai non ti devi fermare merda dolce sto registrando no? dolce 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 meno gas meno gas meno gas un po' più indietro ok sta andando sta andando va 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 ok hai visto com'è andata? ahahahah va a foggio ragazzi non ci preoccupare ahahahah ahahah ah 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 ahahah 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 pensa quanto sta stronzata con la con la con la terra asciutta ce la fai di lì ahahah 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 Scusa eh grazie Scusa eh grazie Ciao Sì sì sai come esco da qua io Scusa eh grazie Mitico Ah già mi devo alzare no Sì Stefano c'è Stefano c'è Ci siamo tutti Scusa eh grazie Una volta Pesso che saigo saigo No devo per forza sedermi e farlo piano piano qua quel cazzo che saigo Ok Oh no ho già fatto la fossa Ok sto salito Sto salito Aspetta eh Opa se ci riesci tanto di cappello Ma voglia Sei un grande Sei un grande zio È un grande Non so neanche che cosa è lontano È un grande tutto No 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 ei sono un grande zio Allora Ahспolvi Oh no 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 has statements guarda sali solo con l'anteriore e poi ti spingo io aspetta che c'ho il fiatone suo qua dentro e non ti sento allora qua tu punta con la ruota davanti qua in mezzo così la moto non può scivolarti ma può solo cadere no 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 sali con l'anteriore e ti fermi e metti i piedi per terra vai tanto ti tengo io vai 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 ok ok adesso da qua fermo fermo da qua siccome ormai sei in direzione la ruota dietro non può scivolare ti dai lo slancio coi piedi vai subito ad aggrapparti sul gardino così tocchi e la fai salire e io ti spingo vai ok riprova ok ok vai indietro vai indietro 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 vai vai deciso vai un po' più deciso ok bravo 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 hai visto? come è salito? bravo bravo quindi bisognerebbe farlo così facciamolo no ahahahah No, no, no. Oh, oh. 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 Aspetta. Oh, oh. 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 Sì Alleggiriscila 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 Ma com'è che è diventata così alta? Giacchia aiutatemi la va No, no Ah Ah Oh Easy easy Prima che scivola Aspetta che Aspetta che mi tolgo Quello che mi automotivo Ci conviene fare questi percorsi e che ci aiuta Ma vado a c***o Vado Ah 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 Sì Vai da lì vai fermo fermo vai Sì vai no no vai vai e non hai dato tasso ok ciao ciao vai un po' più dietro okay di slancio vai 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 vai, vai 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 dooo Ceri, va bene metti il piede sulla roccia alzati in piedi e accelera vai 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 ok vai vai ok 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 i percorsi a te vengono in mente no? ma io non posso farlo facile ma tu sei bravo? no eh lo so ma è questione di avere feeling vai continua continua vai a coppa occhio al piede aspetta sempre avanti il piede occhio al piede aspetta no aspetta dai devi trazione andava no no aspetta devo stare guardi va sei poca spinta ti ho spinto in maniera proprio di fatto è anche questo sento cazzo che il motore il motore porca miseria igniure hai sentito che trazione? aspetta che mi incastro qua è passato? no no Stefano senti mi stai sentendo bene? allora in mezzo a sesterfaglie di solito il segnale si perde però tu mi senti no? ok adesso forse siamo un po' vicini ci allontaniamo un attimo però comunque mi senti forte e chiaro ok ok io l'ho passato un po' perché così ti sento di meno hai acceso la telecamera no? eh si è sentito allora Antonio non so se si sente mi ha detto che lui la telecamera che si è accesa non l'ha sentita ma l'ho sentita io bene 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 eh sì ma è capace che ci sono sicuro allora Stefano se ci senti sto esplorando quindi è capace che fra un po' torniamo indietro ma comunque gliel'ho comunica alla moman che si disconnetteva eh esatto aia porca cioè hai visto cosa ho fatto? cioè mi si è impigliato sul guante e mi ha dato l'accelerata beh ahia eh sì sai perché no? ti senti sempre no? sì davanti c'è da girare a destra davanti ah qua devo girare? eh lo so lo so ti senti sempre no? eh non ti vedo più ah no eccoci 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 benissimo ok ok ah lo conosce si grande mi ha superato anche Stefano a sinistra vediamo a sinistra a sinistra a sinistra vai vai ah non caduti a sinistra a sinistra a sinistra e fa un po' a destra ah sì non sto a scivolare ma poi non potete bastare non entra e qua una volta ho mangiato con due amici panino sotto la neve e sto aggiendo più in te eh si eh, altrimenti non si può passare lo vedi quel moretto a stacco leggermente crollato? dici sono schiantato dal ktm no è c****** difficile, diciamo è faticolo, ci si dice fa, io faccio quello che voglio no, mi sembra sessanta euro mi sembra no, però potrebbe essere il modello vecchio eh che non era bicolore, non era uuuuuh non era uuuuuh non era uuuuuh non era uuuuuh ahahah ahahah che c***o ridi oh per c***o no ho preso il sasso, attento al sasso sulla traiettoria se lo prendevo tanto male mi facevo sulla moto intonare il c***o o niente non ci piacciono grande ecco con le radici però io devo farle così eh ok io devo fare percorsi della racing con un mille ma porca miseria ma ti rendi conto ma neanche lui non lo fa con il 700 oh 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 no piede e fuori no vai eh un po' si dimmi quello che vuoi ma sta moto è una bomba oh se tu mi credi che non ho neanche tolto l'abs no non sto sudando per niente proprio ti dico lo spacco la moto qua aspetta oh 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 ma quest'anno sei più allenato e mi sono fermato qua avvicinatevi avvicinatevi ragazzi se ti mettevi più avanti si appoggiava pure lui no cafone vabbia avanti vai ah no ci sta ci sta ci sta ci sta poggia poggia ci riposiamo un po' respiriamo neggia la natura incontaniata ragazzi state riposando no tu come scendolo in piccata morta poi dicono che non è brillo quindi comunque non è niente è un pochetto no se vuoi se vuoi usali usali anche perchè ti serve per entrare in traiettoria ma infatti lo stavo capendo c'è sempre no stefano aspetta che devo fare così ok ok speriamo non diventa troppo impestata impestata oh no stefano c'è no 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 me va dritto, l'errore è tipico ok domanda falla scorrere, falla scorrere falla scorrere sempre molla tutto cosa? no no PORCAS! Chi sei? Mai fermarsi zio! Mai! La paura è stata no? Come sta Stefano? Grande Stefano! Al mare stai guardando! Perché poi questi percorsi è giusto farli con una mille le ruote stradali e la pioggia! È giusto! È giusto! Frena, frena, frena! Ah ok! Il mare? Qua destra è... Oh, faccio la stransate! Oh, lo sugea! L-o sugea! Stavano tranquillo perché vede dove passiamo! Falla scorrere, falla scorrere! E dopo di questa asfalto e me ne vado a mangiare! Frena! Non prendere velocità! E via! E via! Oppala! Quanto difficile la puoi fare? Quanto difficile la puoi fare? Vai sempre! Vai sempre! Vai sempre! Vai sempre! Stefano c'è? Grande Stefano! Perchè la tua chiamata! No, riposati! Perchè qua! E' tosto eh! Non posso! Non posso! Non lo so! Un mix di cose! Un mix di emozioni! Sì! Sono seduto dietro! Adesso in piedi! Adesso seduto! Adesso in piedi! Adesso! Adesso! Uh! 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 Aspetta che mi sposto con i culi! Uh! 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 C'è? Grande! Allora salite qua! Salite! Vai vai vai! 4,50! 4,50! C'è scritto mille eh! Ma questa 4,50 eh! Vai vai vai! 4,50! C'è scritto mille eh! Vai vai! Uff! 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 Ci vediamo su eh! Uff! Ci vediamo su! Wow! Uff! Uff! Ho parcheggiato qua! Ho parcheggiato sulla roccia! Oh! Sono in strada! assolutato si, si, si non ho più la mano aspetta antonio che mi si riposa il ragazzo la moto pensa che sta andando a due chilometri orari no no in seconda sei grande di seconda sei salito ovvio è troppo potente devo gestirla sta moto non sto scherzando ma vuol dire che c'è un bel motore pastoso io il mio c'è un rapporto giocato di frizione ecco perché sto con la mano un po io mentre vado dico vai vai 450 vai 450 mi autoconvinco forse devo bere forze ma che cazzo di rumori fai non sai fare così come io ieri 40 chilometri di mountain bike so forte proprio io e non riesco più a spostarmi da questa posizione ora sono talmente forte che per fermarmi mi sto schiantato su quella punta la se vedi un po spaccata non riuscivo più a fermarmi secondo me è talmente forte che l'hai portata mille anni fa l'hai messa la se l'ho portata ieri sera no mille anni fa mille anni fa non avevo capito che c'è questo mi sta ruttando nel casco no per quelli che dicono ma tu sei alto in queste condizioni comunque non ci arrivi sulla moto sinistra questo è ah non vuoi che ti seguo vai che ti seguo vai 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 ah ah te la stessa cosa solo che se almeno tu non li rompi che sono morbidi sinistra sinistra vai zio vai non me ne frega niente vai cammina tanto non sto scivolando a tutte le parti cazzo freni ah i freni usi i freni usi i freni oh rallenta in discesa a sinistra qua incollato quindi vedi di non cadere aspetta 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 stefano aspetta ma il tuo aspetta stefano vuol dire vado forte vai e di fermare ah vai vai ahahahah ecco ma rocchio sali su, su a sinistra si prende l'asfalto e' fatta si allora ci siamo fermati al mercato comunale di Otranto e stiamo mangiando potente loro pasta al forno e io ho una focaccia a rape e salsiccia piccante piccante una focaccia con le rape e salsiccia allora stiamo testando questi Moaman funzionano bene, diluvio universale, sta mantenendo molto bene la pioggia non ha problemi io e Antonio abbiamo avuto un piccolo problema di connessione non per quanto riguarda la distanza ma anzi per quello va benissimo qualità del suono tutto perfetto però si è disconnesso o meglio in realtà tu mi sentivi ma bassissimo quindi sicuramente la Moaman questo potrebbe essere anche un problema solo del mio perché lui non ha avuto problemi quindi potrebbe essere un problema del mio e la Moaman sicuramente farà un aggiornamento per sistemarlo anche perché funzionano bene mi sentivi forte e chiaro io sì 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 e abbiamo da stamattina alle otto e mezza che siamo in giro sono l'1.30 di pomeriggio batteria sta ancora al 90% io ce l'avevo al 90% ed è rimasta al 90% quindi io direi che lo promuoviamo promuoviamo anche questo ma il vecchio modello è una bomba già il vecchio modello è una bomba questo ragazzi oggi con il link in descrizione sta a 50 euro l'uno poi con la coppia dovrebbe stare un po' meno di 100 euro se presa la coppia e link in descrizione consigliatissimo consigliato assolutamente Moaman stiamo aspettando il modello che si collega più casi contemporaneamente perché chi esce con noi oggi c'è soltanto lui perché sta diluviando ma normalmente siamo una decina come minimo e quindi Moaman lo sai no che cosa ci devi fare grande per me guarda fanne uno solo per lui grande giornata di enduro probabile stavo accelerando stavo accelerando stavo accelerando ho detto che stavo accelerando è torsato in mezzo e cammina stavo 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 Zio ma è troppo scivoloso Passa da là Oh no facevo il casco è un casco slacciato quando non spacchi la moto guarda che ti dovevi mettere i cosini arancioni ti devi tenere pure che sudi poi ti rinfreschi una parola aspetta gira stefano gira ande 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 probabilmente quando lo metto faccio bordello e quindi va in protezione l'audio no ma non stasci volando è stata scoppica uscitona cazzo oggi uscitona 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 come uscitona allora siamo tornati a casa 150 chilometri vediamo un po come sempre guardiamo un po quanti chilometri 164 in realtà dovrebbero essere 174 vabbè poco importa un 80 per cento di fuoristrada oggi ha piovuto dalla mattina alla sera credo che i guanti possono testimoniare pioggia proprio dalla mattina fino adesso continuato a piovere un sacco di risate un sacco di fango il moman h2 pro ha tenuto è completamente bagnato c'è anche un po di fango ha tenuto la batteria dovrebbe essere al 70 per cento più o meno se non di più perfetto la distanza è buona più che sufficiente come raggio di azione il mio ha avuto problemi di audio ma antonio mi sentiva molto basso io credo che sia solo un problema del mio perché lui l'ho sempre sentito benissimo poi dopo un po il volume del mio si stabilizzava da solo cioè non ho toccato niente dopo un po mi diceva daniele ti sto sentendo bene se mi colla il naso quindi non so se questione di aggiornamento o probabilmente il microfono qua all'interno è completamente bagnato proprio completamente bagnato quindi potrebbe essere anche quello volume un po vattato perché non ho avuto nessun problema telefono collegato musica l'assistente vocale l'ho provato un paio di volte per fare una chiamata una volta ha funzionato l'altra volta no però diciamo non è quello che perlomeno a me interessa va bene vi faccio rivedere un attimo la moto tutta infangata carter ha cambiato colore oggi veramente tanto 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 fango anch'io sono bello pieno di sangue sembro lo milo michelin versione dark va bene ragazzi grazie grazie no man lo ripeto ancora aspettiamo il modello dove possiamo collegare più caschi dai almeno una decina di caschi e anche sei dai perché molti del nostro gruppo di motocicleti non lo stanno aspettando va bene grazie per essere arrivati fino a qui interfono approvato alla prossima ciao codice sconto codice sconto c'è il link ciao